Ciao a tutti ragazzi, io sono Cielo Fisis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video, quest'oggi siamo qui sempre su Whatsapp Troll Quest'oggi troviamo questa persona, ma chi è costui? È un grande fan di Ariana Grande, ma io quest'oggi farò cambiare idea Io ho già detto, ehi misero mortale, adesso mi ha appena risposto Due minuti dopo, ok, cominciamo a scrivergli qualcosa di stupido Tu, eh, io sono colui che prevede, sono sempre colui che prevede Dobbiamo dirgli che ha commesso un grave reato Tu hai, eh, tu hai fatto qualcosa che ha sconvolto l'universo Tre puntini, dice Aspetta un attimo, ingrandisco lo schermo Ok, così potete vedere anche quello che scrivo Ok, ora aspettiamo che ci risponda Ovvero, hai annusato un sasso E quindi, per poter continuare a vivere Dovrai, dovrai fare una cosa per me Sei pronta? E adesso inviamo una bella immagine Ecco, io inviamo questa immagine di Ariana Grande E gli diciamo Dovrai Eliminare Questa bestia Mostruosa 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 Che vive Vive Nel Sottosuolo Sottosuolo Non riesco a scrivere E si nutre Di cosa si può nutrire? Di pantano Di pantano mi sa che ne... Vabbè Di fango, vabbè Di fango Ok Questa qui Questo qui o questa qui È un grande fan di Ariana Grande Adesso aspettiamo che Invii l'immagine E poi vediamo cosa ci risponde Mi aspettavo una reazione più tremenda Dovrai Eliminarla Altrimenti Cultrimenti Altrimenti Il cielo Cadrà sulla tua testa Testa Vabbè Testa Oh Nel stesso momento Nello stesso preciso momento Troll 2 Quello che abbiamo trovato L'altra volta Mi ha detto Stai a fare un troll? Sì Quindi Zitto E scappa E adesso ritorniamo A quello di prima Non ci posso credere Proprio adesso Mi viene a scrivere Ecco Si è messo a ridere Ciao Ciccio Ciccio Ok Ciao Vado Capito Mi sembra che Non mi dica più niente Sta scrivendo Cosa sta architettando Cosa sta architettando Con la sua mente malvagia Cosa sta architettando Sta scrivendo Se ma Sì Ma non la eliminerò mai Allora Allora Mi sa che è la metasteria Che funziona male Il cielo Cadrà Sulla Tu Tua Testa Adesso vi facciamo Immagini di una nuvola Perché è una nuvola? Non c'è una nuvola Tipo il cielo C'è Ecco qua Questo È il cielo Adesso inviamo Tanti Tantissimi Scoppi Boom Ok Facciamo Facciamo Un'altra Cosa Allora Allora Facciamo Facciamo Un'altra Cosa Allora Dovrai Portarmi Un Adesso andiamo a cercare La faccina più strana Che ci sia Su tutto Whatsapp Un naso? No Un alieno? Una scemmia? Pulcino Una rana La luna La luna Sarebbe una bella idea No Un cactus Una zucca Questo Quell'altro Un La luna Dai va bene Anzi Un po' Pazzo di neve Perfetto Dovrai portarmi Un po' Pazzo di neve Allora Fai Un P Mettilo In Una Scatola E via Il mio Come si dice Ho detto Qualcos'altro Aspetta Il mio Indirizzo Eh Non gli do Quello vero Naturalmente Mi devo inventare Uno strano Un Due Tre Quattro Dove Il gatto Casca Ok 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 Adesso chiedo Chi sono Io Sta scrivendo E scrivi Su Che non ho Tanto tempo Sì perché Io ho la neve D'inverno D'inverno Eh Ah ci spacchi Mi ha scoperto Davvero Sicura Sicuro Come lo sai Mi sa che Margherita Gli ha detto Che La volevo Trollare Eh sì Mi sta scrivendo Adesso Ah ci picchia Gli ha detto Davvero Su un gruppo Ma dai Mi ha rovinato Il troll Adesso La trollo Io Cioè Gli scrivo Grazie Mi hai Rovinato Il troll E ora Troll Registro Te Brava Ecco Perché Io so tutto Lo so I Per Che Margherita Vabbè Lasciamo perdere Te La Ok Ok No vabbè Io lo scrivo Come Caspita L'ho scritto Marg Ok Gli l'ha detto Cree E allora Bene Non ho Altro da dire Ciao Ma Ma Ok Aiuto Ora Zetta Che trollo Ancora Un po' Un po' Stavo dicendo Eh Che cosa dicevo Beh È Tardi Oramai Orami Oramai Vado A Prenderlo Da Solo Un Pazzo di Neve Ciao Ciccio Va bene Ragazzi Credo che per oggi sia tutto E ringrazio Margherita per avermi quasi rovinato il troll Però Direi che comunque è stato un po' divertente Aspettiamo che sta scrivendo di nuovo Voglio vedere che c'ha da dirmi ancora Ok A femmina Ciao Ciao Fungo No no Ciao Ciccia No Carcatua Ciao Carcatua Direi che per oggi è tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao A tutti